La scuola da frequentare, due sono le cose importanti di cui tener conto. Una è l'attitudine personale e l'altra è la possibilità di trovare subito lavoro appena concluso il percorso scolastico. Oggi siamo a Bari per parlare all'Istituto Maiorana con la preside di questa scuola delle possibilità che i vostri indirizzi offrono ai ragazzi che si iscrivono a scuola. In realtà la nostra è uno dei pochi indirizzi rimasti in Italia dove si fa ancora tantissima pratica. Le esercitazioni sul campo che vengono effettuate dal primo anno di frequenza dell'Istituto consentono ai ragazzi di terminare il percorso di studi e trovare immediatamente lavoro. Addirittura ce ne sono molti che già da 16 anni sono regolarmente impiegati in attività legate alla ristorazione. Perché la ristorazione è uno degli indirizzi di questo istituto. Andiamo nello specifico. che cosa c'è la possibilità di apprendere? L'indirizzo ristorativo della ristorazione consente ai ragazzi di fare anche una scelta dal terzo anno, poi il bienio è uguale, di studiare discipline legate alla cucina, alla sala e al ricevimento. Noi abbiamo anche nella fattispecie un indirizzo di pasticceria. Poi ovviamente ci sono gli altri due indirizzi, anch'essi estremamente professionalizzanti, che sono l'indirizzo ottico. Anche qui abbiamo un 99% di ragazzi che al conseguimento del diploma iniziano subito a lavorare. Poi l'indirizzo ottico, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.